bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Dexter e oggi ragazzi siamo in un nuovo video di Brawl Stars non rompete le balle subito con questi messaggi di Instagram ragazzi come potete vedere dalle mie coppe ne mancano solamente 7 per raggiungere le 9000 allora ragazzi spero di non sudare come l'ultimo episodio per la Martina che ha raggiunto come dall'ultimo video le 10.000 coppe ragazzi adesso sta al 10.031 perchè oggi non ha potuto giocare e non ha avuto tempo di fare il video con me quindi lo faccio da solo pazienza ti saluto intanto Martina peccato che non è potuto esserci presente nel video però fa niente ragazzi perchè io capite io ho spettato un paio d'ore per la Martina però non è che posso aspettare così tanto anche perchè il video a voi mancava nel video di oggi quindi lo dovevo per forza fare spero di raggiungere le 10.000 coppe con la signorina Piper ragazzi che ho portato abbastanza su ce l'avevo al grado 15 adesso ce l'ho quasi al grado 17 che ragazzi fa abbastanza schifo però ragazzi non me la sono cavata male con Piper io dico sempre sono un cecchino con Piper ragazzi forse anche in qualche video l'avete sentito dire da me perchè sta laggando il mio dio però non è così ragazzi cioè io ovviamente dico che sono un cecchino ma tutti ragazzi con Piper se si impegnano sono bravi io personalmente penso di essere bravo con Piper però poi non lo so ragazzi poi la bravura non dipende sempre dal grado eh ragazzi anche perchè io da quando porco can questa mossa non la dovevo fare da quando porca paletta perfetto da quando l'ho portata a 15 non l'ho più usata ragazzi l'ho usata solo nel video di ieri e poi non l'ho più usata ragazzi si si mi spare di averla usata nel video di ieri comunque ragazzi le 9000 coppe non è un traguardo chissà quanto bello il traguardo più bello è le 10.000 per il mio 10.000 e le 13.000 sono un traguardo bellissimo ragazzi io spero di un giorno di arrivare alle 13.000 non ci credo no ma porca di quella paletta no dai raga non ci credo dai ma porca di quel oh mamma mia ragazzi non si può mai fare un video in pace con i miei genitori non so se lo capiranno mai che quando devo fare il video devono stare zitti per fortuna che ho interrotto in tempo ragazzi e vai a fare il culo ragazzi questo drop non ci voleva adesso ci rifacciamo state tranquilli perché io io non concludo il video finché non le risuole di 9000 coppe non è tutto cazzo comunque dicevo il traguardo più bello è quello delle 10.000 ragazzi e io quando se le raggiunge bisogna vedere anche quello sarò contentissimo perché ragazzi finora da quando dalle 5000 coppe forse anche prima dalle 4000 non mi sono più non è che la prendevo come prima cioè prima cosa sta succedendo adesso che è successo comunque da quando ho raggiunto più o meno le 4000 coppe non c'è stata più la gioia che avevo prima sì bello per carità contento di aver raggiunto un numero alto ma non più come prima adesso ancora meno le coppe si fanno con molta più facilità spero che sto bilanciamento non lo tolgano mai ragazzi perché si riesce a scalare in una maniera bella poi ovvio che c'è meno competitività nel gioco però ragazzi prima era alquanto difficile scalare prima era molto complicato e poi ci dovremmo riabituare al vecchio stile porca di quella paletta raga oddio oddio ragazzi no però ragazzi c'è che triste no ragazzi che tristezza che tristezza non ci sto credendo ragazzi ma che sfiga comunque ragazzi sono arrivato fino alle 8987 coppe prima di fare il video perché ragazzi io in realtà le coppe le volevo confermare ve l'ho già detto forse in un video che io da qua ogni volta che raggiungo un nuovo traguardo di coppe tipo se io raggiungo le 4000 coppe non perdo non vado sotto le 4000 e ragazzi è sempre stato così per me non ho mai droppato quando ho raggiunto il numero tondo ragazzi cioè se io adesso arrivassi alle 9000 non dovrei droppare perché sennò dovrei interrompere quella quella cosa bella non so bene come svegare ragazzi probabilmente sto vincendo delle cagate però non so se avete capito cosa intendo io non ho mai perso coppe almeno per un po' dopo aver raggiunto il numero tondo se così possiamo dire ragazzi non so bene come spiegarlo un po' complicato spero che abbiate capito comunque ragazzi come al solito hashtag tortellino qua sotto nei commenti se volete diventare i moderatori e non ci voglio credere comunque le 9000 coppe le abbiamo fatte ragazzi e confermate anche di una coppa però sto video non può durare 7 minuti ragazzi ora di nuovo non ci credo orca boia con la vecchia quella nuova ragazzita di star power di tara è bellissima cioè è spettacolare quella nuova ragazzi ha vinto sto penne io mi scrivo va bene ragazzi comunque abbiamo grado 17 di piper ma soprattutto la cosa clean del video che bello sentire quel rumore ragazzi è bellissimo non potevi farmi un regalo per le 9000 no no una taretta non so una taretta dai che mi manca voglio avere lo sfondo di taretta no che posso pagare quello di tara però vabbè quello di corva ragazzi non mi potete dire che è brutto vabbè che quello di leone di spike è migliore però ragazzi non mi posso mica fare anzi è il brawler legittario che volevo di più oltre a ste cose ragazzi quali altri mi mancano quali icone mi mancano mi mancano quella dei 100 livelli quella dei 120 quella dei 10.000 ovviamente delle 13.000 ma questa qua è spettacolare ragazzi e poi mi mancano quelle dei brawler tara spike e leon e poi per il resto ce le ho tutte quante quindi ragazzi stiamo andando molto bene su questo account ragazzi sono contentissimo tra l'altro forse ragazzi quando pubblicherò il video ci sarà una live di dead rivers così per cambiare un pochino ragazzi perché stiamo portando solo video e solo brawl stars che per carità per voi non dispiace anzi so che i video di brawl stars sono quelli che vanno meglio sul canale ora non mi dilungo perché dopo pensate che arrivo ai 10 minuti solo per monetizzare perché non monetizziamo ragazzi sarebbe quello il bello ragazzi monetizzare ma purtroppo comunque ragazzi in questi giorni dovrei avere comunque il tempo che cazzo cosa è successo non mi far droppare proprio subito ora mi sta laggando in una maniera impressionante perché lagga così tanto oh porco due ragazzi aiuto ragazzi mi sta laggando non partiamo vi prego dai l'ho appena fatta le 9000 non le voglio troppare ragazzi non capisco un cazzo non so no ragazzi no funziona mi ti prego ti prego non mi ricordo più cosa stavo dicendo adesso ragazzi devo devo trovare una foto delle 9000 con a fianco piper tipo dexter raggiunge le 9000 coppe con piper è figo come ti c'è ragazzi ma io cosa mi metto a sparare dalla gente se neanche capisco cosa sto facendo ma io sono stupido ecco qua adesso arriva il drop ragazzi ve lo dico io stavo andando bene solo un attimino di script prima del raggiungimento delle 9000 ma ragazzi ma dai ma come si fa a giocare così non è possibile ma non è possibile ma dai ma non è possibile ma perché lagga così ma perché no ragazzi io non lo so io non ho parole mi vuoi laggare così tanto adesso no ragazzi adesso riavvio il gioco per sicurezza perché non voglio lo fare ancora ok ragazzi adesso dobbiamo recuperare il drop oltre a questo abbiamo un'altra cosa da fare recuperare il drop con piper che si volevano evidentemente far droppare ah signore ragazzi ma possibile stava andando tutto bene una volta che non urla beh ho urlato comunque non c'è video in cui non urla Franci eh forse sono un po' esagerato anch'io eh ragazzi però capitemi però comunque dai ragazzi cioè io non voglio droppare assolutamente sotto le 9000 perché dopo dovrei prima recuperare poi ci sarebbe lo script mi farebbe dobbiamo fare ancora di più seconda cosa è brutto seconda cosa è brutto e poi dovrei allungare ancora il video che a voi fa cioè solo che piace a me no perché ragazzi dopo pubblicato ci voglio i 30 anni e il video di oggi non può mancare un video al giorno di bro star sarebbe il medico di più e muore e muore bomba di no no non avete presente quello che ho appena detto bene tutto per tuttissima shelly c'è pure uno scarpaggio per un piccadino dai ragazzi no non mi era mai successo perché ho sotto una cosa sudò io lo sapevo che dovrò concludere il video a 9 minuti ragazzi io lo sapevo io lo sapevo non finirà più questo video io ve lo dico ragazzi no io ve lo dico lo sto dicendo proprio con tutto il mio cuore non finirà più questo video no perché io ragazzi io non mi fermo finché non torno alle 9000 non me ne fotte un cazzo non me ne frega niente io alle 9000 ci torno ragazzi non mi interessa e ci torno in video non è che questi mi fanno droppare così dai ragazzi cioè io per tutto l'arco tutto il tempo che ho giocato a world stars non mi è mai successo di andare sotto il numero e solo adesso mi è successo ma con tutti i momenti non poteva arrivare a droppare che ne so alle 1000 e mi sta pure laggando no ragazzi questo video è una merda oh mamma mia bello laggasse per il video io potevo capire che laggasse quando siamo in chiamata io la martina poi c'è il video su e quindi lagga ma non sono neanche in chiamata solo per fare un video mi deve laggare così cioè mi sembra una presa per il pisello oh no no ma non è possibile no cioè io me ne ho oddio che schifo lo scarfaggio è una cimice io li odio le cimici non le voglio schiacciare ho schiacciato era uno scarfaggio ragazzi aiuto dove è la scarpa no 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 io me ne vado no 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 aiuto 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 non va neanche a come si fa agitare così io faccio giocare il bot ragazzi gioca meglio di me in questo momento aiuto papà c'è uno scarfaggio schifoso c'è uno scarfaggio schifoso in bagno uno scarfaggio cosa ho provato non scappa via non riesco ad uccidermi come no era nera sembrava una cimice però dopo aiuto ragazzi come faccio a giocare così non funziona più niente non funziona più niente ma dai ma come si può giocare così non vedo neanche cosa sto facendo ma ci rendiamo attenti ma che gioco del caro aiuto io alle 9000 ci sono tornato però e vabbè ragazzi ragazzi non ci sto capendo vabbè ragazzi prima che finisca male concludo qua il video spero che non vi sia piaciuto seguite stato lasciate un mi piace commentate quindi dividetelo con tutti questi amici mi raccomando l'hashtag come sempre hashtag tortellino per diventare moderatori e seguirti anche su instagram su almeno uno dei nostri profili instagram ragazzi che trovate tutti i nomi nell'info del canale e anche sugli altri social trovate sempre tutti i nomi nell'info del canale e niente bella